Parte quest'oggi un summit all'interno proprio dell'hotel Terracqua dove in questo momento ci troviamo. Alla centro dell'attenzione della discussione di questa settimana è il problema immigrazione in Italia e in generale in questo lembo di Sicilia in modo particolare. Sette giorni dove si alterneranno vari relatori con varie relazioni che cercheranno di sviscerare il fenomeno immigrazione da tanti punti di vista. Da quello giuridico a quello sociale a quello che in qualche modo può avere a che fare proprio con il territorio in quanto tale. I partecipanti, circa 16 ragazzi provenienti in gran parte dall'Università di Messina, si sono dati appuntamento qui a Ragusa, a Marina di Ragusa, per cercare di approfondire una problematica quanto mai attuale. La Sicilia non è una terra di consolidamento delle presenze straniere, è una terra di passaggio, di transizione perché dopo magari l'arrivo tantissime si dirigono verso le regioni del nord. E quindi la percentuale di presenze qua in Sicilia è la metà di quella nazionale. In provincia di Ragusa parte anche l'elemento importante della Summer School e parte quest'anno con una tematica che la Sicilia e la provincia di Ragusa sente particolarmente. L'immigrazione come innanzitutto integrazione, non soltanto come problematica. Una settimana di discorsi ma anche di prove pratiche. Sì, il problema dell'integrazione è un problema fondamentale per questa zona, ma non soltanto per questa zona, ma per la Sicilia e per l'Italia in generale. Quindi uno dei problemi che si discuteranno sarà proprio l'integrazione, che vedrà degli studiosi che parleranno appunto di questo, oltre che di altre problematiche sempre legate all'immigrazione e credo che sia importante anche confrontarci con le istituzioni del territorio per vedere come eventualmente aggiustare il tiro rispetto a certi fatti. Lei da studioso innanzitutto ritiene che il nostro territorio, in quanto territorio siciliano, abbia compreso l'immigrazione più come una risorsa o come una problematica? Innanzitutto il territorio è un territorio bellissimo, di per sé, in termini naturalistici, ma quello che ho visto io, le prime battute posso dire che è stato visto questo fenomeno dell'immigrazione come una problematica da una parte, ma anche con un momento di confronto e quindi di integrazione e quindi di multiculturalismo che potrà dare a tutti quanti i soggetti, gli attori dell'azione, delle risposte affermative, l'uno rispetto agli altri.